Buon inizio di settimana, lunedì 7 di novembre. Per l'informazione di Senigallia Web TV, bentornati. Sabato pomeriggio in Via Verdi a Senigallia una bambina di 4 anni è stata investita insieme alla zia. Dopo l'impatto con un'auto sono finite entrambe a terra e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che le ha trasportate al pronto soccorso in codice di media gravità. La dinamica dell'incidente è al baglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi. Un incidente, un violento frontale all'incrocio tra Via Selvettina e Viale Italia a Montemarciano, un furgone e una station wagon si sono scontrati frontalmente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere i conducenti che non hanno riportato ferite gravi. Una cittadina di origine polacca ma residente a Senigallia è stata denunciata dalla polizia per falso in atto pubblico. La donna era stata fermata alla guida di un'auto con targa polacca. Durante il controllo dei documenti, gli agenti della pattuglia hanno notato che il timbro della revisione della vettura era stato falsificato. Il veicolo è stato quindi sequestrato e la donna denunciata. Taglio del nastro per la nuova palazzina direzionale di alta specializzazione presso la residenza protetta di Fondazione Città di Senigallia. Far vivere meglio, molto meglio, al meglio possibile gli ospiti che sono degli anziani fragili che vengono ricoverati da noi. E contemporaneamente si pone come scopo quello di far vivere meglio chi lavora all'interno della struttura. Quindi migliora sia la condizione di vita dell'ospite ma anche la funzione del mio collaboratore, sia che sia infermiere professionale, sia che sia OSS. È una struttura che si pone tecnologicamente all'avanguardia perché sia ossigenoterapia, che vacuum, che posti letto adatti a ricevere un paziente allettato a permanenza, alleviandole le sofferenze, sia sistemi di igienizzazione e di pulizia all'avanguardia. Ma è una struttura che si pone all'avanguardia anche perché intanto abbiamo migliorato il sistema antisismico delle due palazzine. Tecnologicamente si pone all'avanguardia per l'abbattimento dei costi energetici e per la domotizzazione spinta di cui è servita. Cambiamo argomento. Se rinnova il tradizionale appuntamento cittadino con la simpatia e la cultura del dialetto. Domenica 13 a partire dalle 18 all'Auditorium San Rocco si trarrà la premiazione del 22esimo concorso di eposia dialettale Giovanna Ceciliani, organizzato dal Centro Sociale Molinello II in collaborazione con l'Associazione Culturale La Tela e il Comune di Senigallia. Come si scrive e si legge una fotografia? Questo è il titolo della conferenza di battito presentata dal giornalista Salvatore Gaias che si è svolta sabato 5 novembre all'Auditorium San Rocco di Senigallia. Noi abbiamo fatto questi incontri, questa è la seconda di una serie di incontri, il primo abbiamo fatto sul linguaggio parlato ma la verità è che il linguaggio parlato e il linguaggio visivo sono due facce della stessa medaglia e faremo adesso un terzo incontro che approfondirà il meccanismo del flusso delle notizie visive e parlate facendo venire una persona esperta di uffici stampa, cioè un collega, io sono un giornalista, un professionista da tanti anni, ho finito la mia carriera e vivo a Senigallia con entusiasmo perché mia moglie è di queste parti, ho finito la mia carriera come caporedattore di un grande, del maggiore giornale italiano ma mi diverto a parlare di fotografia come un matto. Particolarmente stimolante per le idee avanzate e innovative l'intervento della giornalista Barbara Silbe. La fotografia è una cosa importante e che bisogna smettere di parlare sempre dei soliti autori, dare spazio e importanza a tutti gli autori italiani già affermati che magari il mondo si è dimenticato e ai giovani talenti, giovani che possono essere anche quarantenni perché il talento emergente non è più un ragazzino ormai ma non ha spazio, in Italia non c'è spazio e non c'è valore da dedicare agli autori, questa è una gravissima cosa secondo me. Diamo un'occhiata allo sport e ai risultati, pallavolo, vincono i ragazzi 3-0, perdono le ragazze 3-1, questo l'esito delle partite delle squadre della Serie C di l'US Pallavolo-Senigallia. Per la squadra maschile della Security Tape è la prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte per 0-3 nelle ultime tre giornate, brutte notizie invece per la squadra femminile battuta 3-1 a Marina di Montemarciano dall'Esino Volley. Adesso il calcio, importante vittoria per la Vigo-Senigallia che ha battuto 3-1 il Villamusone nell'ottava giornata del campionato, promozione girone A. Il basket, vittoria per la pallacanestro Senigallia che batte di misura 72-71 la neopromossa Perugia nella sesta giornata della Serie B, girone D. Davo un'occhiata alle condizioni del tempo di martedì 8 novembre sulle Marche, cielo attesa, una certa variabilità sulle province settentrionali, con i dissolvimenti più estesi previsti sulle coste. Le precipitazioni previste nel corso della giornata e modesta intensità e diffusione specie sulle zone interne e a sud, i venti occidentali deboli sulle zone interne fino a moderati sulle coste, in calo le temperature. Previsioni elaborate dal Servizio Agrometeo Regionale dell'Assam. Grazie per averci seguito, a domani.